Il mio sarto è sfavorevole agli addi. Per questo, ha detto, non partirà mai più. Non vuole separarsi dall'unica sua figlia. Assolutamente sfavorevole agli addi. Una volta ha detto addio a sua moglie e non l'ha più rivista, Auschwitz. Disse addio alle sue tre sorelle e anche loro non le rivide mai più, Buchenwald. Una volta disse addio a sua madre, il padre morto in età veneranda, adesso è sfavorevole agli addi. A Berlino era in buoni rapporti d'amicizia con mio padre, bei giorni consumati. Nella Berlino di allora. Quei maledetti tempi sono passati. D'ora in poi non partirà mai più, perché lui assolutamente è, mio padre intanto è morto, sfavorevole agli addi.